Se volete acquistare i crediti FIFA a basso prezzo andate su fifacoin.com e avete il 5% di sconto con il codice Granos Cioè figa Bene vecchi dramoni di Semi Granos e siamo tornati qui con un nuovo Road to Division 1 No, basta, mi metto in testa che è Road to AC tua Cosa dire, abbiamo preso, l'unico cambiamento che abbiamo fatto all'episodio precedente è con E a centrocampo Che non possiamo mettere Non possiamo mettere perché è 74 di forma fisica Quindi niente, questa è la formazione che farà la prima partita Abbiamo rimesso di Natale al posto di Dzeko per dargli un po' di riposo Falchi è rientrato dopo partite che non c'è stato Onazi ha dato il cambio a Tyder Paletta è rientrato e tutto questo Carnetis non si stanca mai Ma va bene così, scatta una pippa e le pippe non si stancano No, aspetta, raga, fermi AC tua contro AC der Bolina No, vabbè, dai Oh, può essere che è una partita riuscire a vincere Sì, ma ti giuro che sia Oh, Benzema in porta, ma perché? È identico a Benzema In teoria con 64 in tesa non dovrebbe fare un passaggio Eh, se fa più passaggi di noi corretti Spacco il gioco Eh, non posso spaccarlo perché online abbiamo preso Quindi niente, non spacco un cazzo Ehi Buone, ma non è fuori gioco Non è fuori gioco Sì, vabbè, ci ha messo tre ore per piazza palla Oh, eh che cazzo, è lunga per un pietro di merda Dio, po' Perché la nebbia? Perché? Che t'ha chiesta? Ma infatti sì, ma stava a giocare a Milano Perché i boni? Chi era? Buonazzi E sotto E Falke che forse corre No, ci arriva Dari che gli uno sì Guardi Uno di Fiacca di Sop Bella, bella, che bella Che bella, che bella, che bella E rigore, dammelo Dagli pure il rosso Gli devi dà pure il rosso Eh Iai Uno a zero Credo sotto forza Acci tua Regà, io in tutta la mia carriera di FIFA Lo sbagliatevo due rigori Eh E uno perché ha rosicato lui E ho tirato il pallonetto Ma che ti aspetto? Io me ne vado Io me ne vado Cos'è come te se ti recupero? Ti sdraio Perché devo Ma tira il pallonetto? Cioè Che cazzo hai fatto? Scusa, eh Vorrei capirlo un attimo Che cos'era? Ma io pensavo che l'alzava Perché non l'alzata? Ma fa il pallonetto Se poi vuoi tirare da là Cioè perché hai tirato a deprecisione? Col sinistro Ehi Oh, dai a sto rosso Allora, io ti spiego tutto Quando tiri da lontano e forte Se tu ti deprecisione La palla si alza da sola Non serve far il pallonetto Se tiri col piede è giusto Cazzo però Con due pure lui Si va spostato sul piede sbagliato Dai Che ha fatto? È passato Che è successo? Ecco cos'è successo Ecco cos'è successo No 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 Non esiste Che sappiamo nel posto Non esiste Che tu Che affam Mi pare Andanovic Perché FIFA è così quest'anno Ho capito Ma il regolo del calcio Cioè comunque Non è che Piala Guarda che bugio di culo Che c'ha questo Non ce voglio crede Me ne è rannato E il pallone è rimasto indietro Oh 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 Cosa da merda Mi frega un cazzo Non l'ha fatto 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 Non l'ho sbagliato Non l'ho sbagliato No è entrata È entrata Ok Che sofferenza Che segnale Cioè pure il lag Pure il lag Cercate non fate segnare qua Capito Mamma mia No 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 Non lo fare Ancora Adesso si Vabbè Amo vinto Amo vinto Amo vinto Voglio spaccare qualcosa Comunque Amo vinto Cioè Salastia vinciamo comunque Però ok 6 punti Dai Almeno Siamo risparmiati Mezzo tempo Di carbaccio 3 punti Anche 3 punti E andiamo avanti Ok Uccidiamoli Che cazzo Che ha preso Però uccidiamoli È bellissimo Uccidiamoli Allora ragazzi Dopo acciterbollino Accitua Adesso uccidiamoli Accitua Che altri nomi Se posso commentare Porco De una cifra Perché avevamo la squadra SS mid Questa Capiranno un po' Sì vabbè Però Comunque bottino pieno Non è mai successo Fino ad ora Nell'arrodo Accitua Sto più a chi Ma infatti Ho fatto qualche Caputana Perché era partito Bellissimo Oh Iaici No perché Centro Centro Che è La chiamo del cane Centro Non c'è il cane No E' riandato Mi immagino È rigore Però Ebbè Tira Iaco Tira Iaici Tira chi Tira Iaici La Mamma mia Mamma mia Come si fa Se chiede Rigore Baci Tua Mamma mia Iaici Tendiamo solo tu rigore Minchia la piazza Minchia zio Figa Oddio C'è Paggio Che palla O c'è il lag O c'è sta Uccidiamoli Che Ebbè 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 Eh vaffanculo Tira Mi frega un cazzo Mi frega un cazzo Lo due Va bene Perdiamo tempo Posso pure nostra Davvero Grande Buono Si però Non dava Anzi C'è Ce l'hai la palla Unnaccia Oh Ebbè Uno due Fantastico Magari entrava Oh Oh Guarda che Ti rende scherzando E' una cosa stupida Però Mi l'ho fatto tagliare Ebbè Oddio mio Non la prendo Oh Giù 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 L'unico ammonito Annaggia scime L'ho proprio distrutto Ad essere il portiere No No Allora raga Tocca Fa una bella Cioè Lui un tiro comunque E dobbiamo fare una bella partita Qua adesso Dobbiamo attraverso l'impegno E tira subito Ma subito Se tiro Non pia ma E prova E comunque Hai visto che intanto Non ci arrivi E non metto Al tuo alle provacce Magari una volta Tu ti agi entra Vabbè Vabbè Ma che tiro ha fatto Comunque sempre così Rientra Passata a mezzo All'area Passaggio Ha preso palo Tra le Solo così Riesce a segnare Quanto è storto Quanto è storto Quanto è storto Vabbè che ti aspettavi Manco del passaggio Però quanto è storto Appunto è quella la cosa No perché Non mi fido Donazzi Ha fatto un bel tiro di merda Capito Cioè pensa Cioè pensa Carnesis Non c'è problema Cioè È finita La cosa è questa Che cosa È che abbiamo fatto una vittoria Su due Anche in questo episodio E l'altro E l'altro è una vittoria E basta Siamo a La bellezza di Sei punti E ci mancano Sei punti Quattro partite Dovremmo fare due vittorie Su queste quattro È possibile Ce la possiamo fare Quindi ragazzi Lasciamo un like Abbiamo perso contro Gli uccidiamoli Lascia un like Se vi è piaciuto questo video E niente Ci becchiamo come sempre Al prossimo video Rottuacci tua E bella Ciao